Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su New Home Medieval Village, un gioco in early access uscito già da qualche tempo e che costa 16,79€. Non vanta delle grandissime recensioni, nel senso che siamo nella media, quindi quasi un esatto bilanciamento tra recensioni positive e negative. Lo programmo insieme e ho deciso di farlo per la prima volta con voi in modo da testare e vedere se effettivamente ne vale la pena o meno. Vi darò il mio onesto parere a fine video. Questo gioco si basa sulla realizzazione di città. Quando hai scelto il layout e la zona della città, le case verranno costruite in modo automatico. Graficamente dei menu è un pochino grezzo. Ci sono dei materiali in alto, medicinali, bevande, vestiti, libri, raccolti, varie, poi avevo saltato pasti e combustibili. Va bene. Gli abitanti arrivano via nave, pertanto deve esserci almeno un mollo nel villaggio per costruire più molli in modo che approvano più navi. In modo tale che gli abitanti vengano al villaggio è necessario che ci siano ostelli per alloggi temporanei. Il gioco in italiano valuteremo anche la bontà della traduzione. Se non c'è un ostello o se non ci sono posti disponibili negli ostelli già esistenti, le persone non verranno. Prenotano prima insomma. E se non trovano posto manco riscono da casa. Quando gli abitanti si trasferiscono nel villaggio possono richiedere case e posti di lavoro. Espandi il tuo villaggio determinando le zone. Ogni abitante in arrivo consuma risorse. Ci sono otto tipi di risorse per ottenere le risorse dalle navi in arrivo. La qualità delle risorse in entrata cambia in base a quanto attarente il tuo villaggio sia. Le risorse di qualità superiori renderanno più felici i tuoi abitanti. Hai bisogno di edifici per l'istruzione, salute e sicurezza? Sembra anche piuttosto profondo visto così. Gli edifici di servizio richiedono un livello minimo. Per sbloccarli devi salire di livello. Puoi utilizzare il livello del villaggio. Ogni abitante è trasferito a uno status. Per attirare nel villaggio abitanti di rango elevato è necessario aumentare l'attrattiva del villaggio. Quindi quelli di status più elevato pagano più tasse e si stabiliscono in case più grandi. Ok, ora facciamo il tutorial. Ci muoviamo con VASD, Q e D sui vuota e zoom avanti e zoom indietro o Z. Ok, anche il tasto destro ci permette di vuotare. Costruisci un molo. Quindi andiamo a vedere anche come sono fatti i menu, i menu di costruzione e si spendono soldi. Ecco, questa è una delle prime critiche. Non si usano risorse, ma semplicemente soldi. È una semplificazione non da poco. Allora, abbiamo... Allora, siamo nel 1600, il primo di giugno. Abbiamo 50.000 monete, non abbiamo popolazione. Qua invece abbiamo i paesani che hanno lasciato, i paesani morti, i crimini commessi, i cittadini paesani malsani e i paesani infelici. C'è tutta la negatività concentrata in una barra qui. Insomma, vediamo. Abbiamo il molo, l'ostello, l'ostello grande, il pozzo dell'acqua, la chiesa, la moschia, la taverna, il municipio, il porto commerciale a livello 5. Poi abbiamo gli edifici di servizio, la biblioteca, scuola, liceo, clinica, grande clinica, dipartimento di polizia, grande dipartimento di polizia, caserma di pompieri. La produzione, salto, taglia a linea, cantina, arborista, tessitore, cartaio, scriptorium, conceria, fonderia, orafo, forno a carbone e la mia cava. E poi abbiamo la pianta. Va bene. Decorativa, presumo. Costruiamo un molo. Il molo lo selezioniamo, lo posizioniamo noi. Quindi direi che potremmo metterlo anche qua così. Richiede un collegamento stradale. Costruisci una strada dritta, una strada curva, una strada, collega una strada al molo, usa le linee stradali. Perfetto. Quindi le facciamo qui. Abbiamo... Allora... Costruisci... Ah, vediamo un po' cosa diceva. Qua la costruzione. Qua le strade. Ok. Shift aggiungi punto curva. Ah, ok. Così. 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 Shift aggiungi un punto curva. Ah, ok. Interessante questa cosa. Ok. Usa le... Tiene il tasto alto mentre costruisci una strada. Ah, ok. Dobbiamo usare alta. Vedete che ci sono le linee stradali. Ok. Mettiamo una strada anche lì così. Ok. Ora costruiamo uno stello. Sembra carina come... come cosa. Per quanto... Sì. Non poter abbassare la visuale e non vedere cosa c'è più lontano. È un po' problematica la cosa. Comunque, lo stello sarà il primo edificio che troveremo quando entraremo in città. Quindi lo piazziamo qua. Fornisce acqua all'ostello. Costruiamo il pozzo. Il pozzo l'avremmo visto e lo mettiamo qua davanti. Vedete che c'è una banda, diciamo, di... di fornitura d'acqua. Io la metterei più che qui, che magari non andrò a costruire neanche la piazzo qui. Va bene. Cambia la velocità di gioco. Tasti 0, 1, 2, 3 per modificare la velocità di gioco. Vedete, lo facciamo qui con 2, 1, 1, 2, 3. Ok. Fatto. Acquista risorse. Quando arriva una nave, acquista tutte le risorse. Questa è, come ho già detto, una semplificazione non da poco perché non... e le critiche che erano rivolte a questo titolo erano principalmente basate sul fatto che non è un anno 1800, anno 1404, insomma, quei giochi lì, dove bisogna acquistare le risorse, dove bisogna, scusate, dove bisogna produrle. Qua si compra. E qua compro tutto. Abbiamo canne, verdure a carbone. Cioè, in sintesi, queste. Compro tutto. Ok. Abbiamo... per esempio, è interessante anche vedere il discorso della qualità, perché è scarsa qualità. È tutto di scarsa qualità. Zonizzazione della casa. Usa il menu richieste per realizzare la zonizzazione. Ok. Questo invece è più una sorta di city skyline. Praticamente abbiamo sette abitanti e richiesta di costruzione delle case. Cancella zona. Cioè, praticamente noi selezioniamo una zona e poi ci pensano i cittadini. a edificarsi la casa. Zona campo agricolo. Quindi andiamo a piazzarci i campi agricoli, zona agricoltura, fattoria. E come la facciamo questa? La mettiamo magari qua dietro. Per impostare i confini del campo. Ok. Così. Costruisci un bestiame. Costruisci un bestiame bellissimo. Bestiame. Lo facciamo di qua, il bestiame. Abbiamo altro da produrre. Abbiamo un frutteto. È anche carino. Vabbè. Clicca su un campo agricolo per modificare. Produci verdure. Ok. Produzione verdure. Ok. Qua avevano già iniziato a produrre quello. Invece adesso è stato ripianificato. E' una semplificazione anche questa, devo dire. Perché i cittadini sono arrivati. Non si vedono in giro. No, eccoli qua. Eccoli qua. Edward Stewart. In menù sono, come ho detto, grezzi. Si vedono i membri della famiglia. In pratica è arrivata una famiglia con Ewan Stewart. Con la moglie, Maria Stewart. 40 anni. Lui è ne ha 41. E un figlio di 12. Abitante povero. Sono tutti poveri. Imposta velocità. Gioco al massimo. Aggiungi 30 abitanti nel villaggio. Ne abbiamo attualmente 7. Quindi qua ne vediamo 3. 3. 1, 2, 3. Ma arriva anche questo. Vediamo chi è. Francis McGregor. Felicità. Insomma. E' nubile. C'è nubile. Celibe. Scusate. Domicilio. Casa. Tare. Concentrate. Ok. Intanto qua hanno edificato le case. Fai costruire almeno 10 case. Quindi adesso piazziamo altre case. Una decina diceva. 1, 2, 3. Ci costa comunque un po'. Però è carina questa cosa. Un po' sullo stile di City Skyline. Questa dovrebbe essere una zona tutta rifornita dal pozzo. Credo. Il pozzo dovrebbe fornire un buon... Tra l'altro mi manca anche un po' di strada. Infatti volevo continuare a piazzare una strada. Mettiamo un punto così. Ok. Così continuiamo a piazzare case. Posto di lavoro. Allora. Per costruire le case. Case e posto di lavoro. Non so cosa sia questa onestamente. Fatemi un po' vedere. Gli abitanti chiedono un piccolo edificio commerciale. Ma in realtà non è vero. Però. In sintesi sono le... Cioè hanno lo stesso colore di quelli di City Skyline. Quindi i negozi in sintesi. Comunque abbiamo qua l'ostello. Con della gente che vive qui. Ed è in attesa di costruirsi la casa. Infatti qua c'è la nave. Bisogna tenere sempre d'occhio l'acquisto delle risorse. Quindi adesso io ho 40.000. Sentite io compro le risorse. Compro tutto. Non ho speso neanche tanto. Cioè è una semplificazione non da poco. Neanche questa. Perché compra tutto insomma. Vabbè. Velocizziamo il tempo. Alla velocità massima. Intanto passa... Passano le ore. Qua sotto vedete le ore. Qua sotto vedete le risorse. Economia. Il reddito, le spese. Al momento non ci bilanciamo. Ed è in continuo aggiornamento. Non è neanche male. Perché comunque a parte questa semplificazione delle risorse. Secondo me se... Se lo portano avanti bene un Early Access. Forse è stato un gioco già definitivo. Ma essendo in Early Access possono cambiare tante cose. Deve da tenere d'occhio. Perché questa fusione un po' tra delle meccaniche di City Skyline. Ambientate in... Beh non lo definirei più Mediorevo. Però... Subito post Mediorevo diciamo. Allora intanto... Otto persone trasferite. Possiamo acquistare le risorse ancora. Non abbiamo già comprato tutto. Intanto stanno costruendo. Abbiamo completato... Quasi tutte le case. Che ci avevano chiesto. Abbiamo otto case. Beh non ha senso neanche costruire le case più avanzate. Perché... Perché non abbiamo cittadini stubiti al momento. Quindi... 23... Io metterei altre case. Non ci sono nemmeno richieste di altre case. Però io ne piazzo una per sicurezza. Praticamente abbiamo ottenuto 4... 4... 4, 4, 8, 12... Sì direi che ci siamo. A breve saliremo di livello. Passeremo anche questo tutorial. E qua... Quanto attraente il villaggio. Dobbiamo acquistare altre risorse. Però in effetti qua produciamo. Quindi bisogna... Bisogna capire un attimo come funziona. Qua vedete che... Grano, spezie, verdure. Ne abbiamo tante. Frutta non ce n'è tanta. Ok. Abbiamo completato anche questa quest. Dovremo costruire una clinica. Zone, secondo campo agricolo. Allora intanto vediamo qua. Costruiamo la clinica. Che ci costa ben 2000. E va a coprire un po' di... Un po' di gente. Soprattutto queste persone qua. Ok. Zone. Apri la scheda agricoltura nel menu richieste. Ok. Dobbiamo aprire l'agricoltura. E fare un'altra fattoria. Fattoria secondaria. La mettiamo qui. Produci erbe aromatiche. Quindi erbe aromatiche in produzione. Costruisce un edificio per erboristeria. Quindi vediamo. Si è già sbloccato qualcosa. Biblioteca. Erborista. Produce medicinali e unguenti a base di erbe. Quindi noi produciamo le erbe aromatiche. Poi non so quanto sia. Shift più R. Ruote edificio da un lato o dall'altro. Voglio farlo così. Che è più bellino da vedere. Non riesco a piazzarlo giusto. Però vabbè. Mettiamolo così. È storto ma va bene. Con una strada. Voglio piazzare la strada che parte da qui e arriva direttamente al nostro amico. Quindi. Così almeno avremo altre zone. Costruisce una stazione di polizia. Perfetto. Stazione di polizia dovrebbe essere qui. Che poi è brutto chiamato così in questo periodo storico comunque. Va bene. A ridurre la portata della stazione di polizia. Praticamente dobbiamo diminuire la portata al 70%. Ok. Non so perché. Però ci costa molto meno di manutenzione. Questa è una cosa interessante. A ridurre il raggio d'azione della clinica. Al 70%. Anche in questo caso perché va a coprire probabilmente delle zone che non ci interessano. Perché non è un veterinario. Aumenta la tassa sulla casa piccola. E questo è. Ok. Ah ok. Aumenta. Vediamo un po'. Scusate ma aumentiamo le tasse. Cribbio. E di quanto la devo aumentare perché. No adesso mi ha la data valida. Ok. Facciamo così dai. Ok. Raggiungi 100 profitti al giorno. Avevamo 63. Infatti da qua possiamo vedere i profitti. Se io aumento la tassa. 63. Eh ma deve aggiornarsi probabilmente. Raggiungi 70 abitanti. Per costruire almeno 20 case. Continua a costruire. Ok. Crea almeno 5 posti di lavoro. Ne abbiamo 4. Vediamo un po'. 66. No. Per forza dobbiamo costruire nuove case. Quindi. Tanto i soldi sono. Non sono un problema. Al momento. Mi ha voglia. Di installare. Medieval dynasty. A questo punto. Allora. Acquistiamo le risorse. Ancora. Dalla nave. Bisogna ricordarsi di fare quello. Bisogna aumentare i profitti a 100. Quindi acceleriamo i tempi. E vediamo cosa succede. Se arriva altra gente. L'attrattiva del villaggio è proprio bassa. Voglio dare un'occhiata. Dobbiamo fare altri posti di lavoro. Che anche qua è una roba che non ho molto capito. Però. In sintesi dà del lavoro. La locanda. Lo chiamano posto di lavoro però. E ci lavorano delle persone. Quindi delle attività commerciali. Ne abbiamo 4 posti di lavoro. Dovremmo raggiungerne 5. Fatemi un po' vedere. Poi c'è casa media. Casa medio grande. Casa grande. Posto di lavoro medio. Posto di lavoro decente. Posto di lavoro ricco. E poi l'agricoltura. Ok. Compriamo ancora risorse. Sarebbe da capire. Come funziona questa storia qui del rifornisci. Però abbiamo un sacco di roba. Ci mancavano forse medicinali. Ma li stiamo producendo. Intanto qua stanno mettendo in costruzione altre case ancora. Qua gli manca l'acqua. E questa è una cosa che volevo fare. Perché il pozzo non arriva in questa nuova zona. Quindi il pozzo lo mettiamo qui. Così copriamo anche questa nuova zona. Non ho visto effettivamente quanto mi è costato. Ma non credo tantissimo. 500. Abbiamo 100 profitti al giorno. 122. Dobbiamo raggiungere i 70 abitanti. E far costruire almeno 20 case. Ne abbiamo 17. Però abbiamo tanti altri spazi. Credo. Ancora in costruzione. Quindi. Non ci resta che aspettare. Intanto diamo un'occhiata agli animali. Cliccando sopra. Bestiame. Abbiamo. Ah! Gli Stuart. Quelli all'inizio. Più un altro tizio. Che è un'altra famiglia di due persone. Quindi. Anche un Claire Dick. Che nome curioso. 5 dipendenti. Stanno producendo carne con le mucche. Qualità giornale a 6. Qualità discreta. Efficienza totale. Efficienza stagionale. Perché poi ci saranno. Anche le stagioni. Quindi questa sarà un'altra cosa interessante da valutare. Comunque. Aspettiamo i 70 abitanti. Rimaniamo in attesa un istante. Poi potremmo pensare anche di vendere. Intanto vedete che sono arrivate delle persone. Ogni tanto compaiono dei simboli. Sulle case. Di un omino che ruba. Con un sacco. Sulle spalle. Quindi quella credo sia la criminalità. Che si manifesta all'interno della. Comunque. È arrivata un bel po' di gente. Adesso costruiranno le case che mancano. Credo. Sì. Infatti non ci sono richieste al momento. Tutto zero. Quindi credo sia solo questione di poco tempo ancora. E poi magari arrivare a un'altra nave ancora. E si possono vendere le risorse nel caso in cui ci servissero soldi. Ok. Sono arrivati. 70 abitanti. Non credo chiedano case. Chiedono una casa povera. Sì. Ma ne abbiamo. Forse dobbiamo farne ancora. Credo che siamo. Sì. Infatti. Infatti. Ok. Abbiamo un nuovo obiettivo per questo tutorial. Sfoglio il menu attrazione. Clicca sulla barra arancione. Praticamente. Sfoglio. Vabbè. Intanto vediamo. Attrazione 7. Abbiamo solo abitanti poveri. Poi ci sono i medi benestanti e i ricchi. Le risorse. La qualità è scarsa. Con una puntina minima di qualità media. Poi c'è la discreta e l'ottima. Tra l'altro l'ho scritto anche sbagliato. Ottima. Vabbè. Sfoglio lo strumento di copertura. Fai clic su qualsiasi edificio di servizio. Fai clic sullo strumento aree di copertura di seguito. Quindi qui. Ok. E qua possiamo vedere la copertura dell'acqua. La formazione scolastica che non esiste. La salute. La sicurezza. Infatti queste case qui non sono coperte dalla sicurezza. Caserma dei pompieri. Che non abbiamo. No. Che abbiamo. Boh. Sfoglia un profilo di non abitante del villaggio. Ok. Fermi tutti. Pausa. Clicca. E vediamo la sua felicità. Le tasse non piacciono. Nessuno insomma. Sfoglio il profilo di una casa. Quindi clicco su una casa. E vediamo. Impatto sulla salute. Impatto educativo. Sicurezza. Sfoglio. No. Cliccato su un posto di lavoro. Questa è la casa. Ok. Congratulazioni. Ho imparato il gioco. È una sua forma più semplice. Con l'aiuto del tutorial. Il villaggio che hai costruito. Si trasformerà in un vero salvataggio con sfide attivate. Scelgo uno slot. Lo chiamo Indie Land. E salvo il gioco. Ok. E qua inizia una vera partita. Posso comprare risorse ancora. E si va avanti. Bisogna un pochino salire di livello. Ma lo definirei più a questo punto visto così in generale. Un city skyline in stile rinascimentale. Ma non saprei dirvi. Nel senso che 16,79 euro non sono male se siete degli appassionati di city builder. Ovviamente esistono titoli che magari in forte sconto troverete magari a prezzo simile che sono decisamente più macro gestionali, micro gestionali anche. Però non è malaccio. Nel senso che se siete degli appassionati io ovviamente vi parlo da persone che sono abbastanza distaccate dalla cosa perché non gioco tantissimo questo genere di giochi. Comunque qua ci passiamo un bel frutteto. Che frutteto ci metto? Frutta. Sì. E diamo del lavoro alla gente. È interessante perché poi potrebbe diventare anche una bella città. Soprattutto magari se andremo a costruire degli edifici a livello 4. Adesso passaggio di livello. Siamo a livello 2. Al successivo sblocchiamo la scuola. Quindi tra un po'. Tra un po' potremo fare la scuola e il sarto. Con la scuola aumenterà l'istruzione e quindi potrebbero arrivare cittadini più colti. Cittadini di fascia più alta. La moschea. 10 attrazioni per massimo di 200 abitanti. Ok. Abbiamo la chiesa e la moschea. Non so perché li abbiamo messi entrambi. In quale diciamo mondo utopistico. Soprattutto in questi anni li potremmo trovare vicini ma va bene. La biblioteca ha un edificio scolastico. Ecco quello che ci manca è questo. L'edificio scolastico che io potrei piazzare esattamente prima mettendo una stradina che va avanti. E poi ci piazziamo la biblioteca. La biblioteca dovrebbe dare un'istruzione basilare a queste case. E forse... No già ci stava forse anche una scuola qua eh. Eh devo demolire una casa mi spiace. Come capita in city skyline. Piazziamo la biblioteca anche qui. Così diamo istruzioni. Istruzione anche ad altri. Giusto? Giusto. Compro risorse. Un po'. Biblioteca. Ah no abbiamo la scuola. L'abbiamo sbloccata. Siamo saliti di livello. Quindi la scuola richiede il collegamento stradale. Eccola qui. La scuola è questa. E ne piazziamo anche un'altra di là. Biblioteca e scuola. Stiamo spendendo... No vabbè ma dà anche quello però... Potremmo piazzare uno anche lì. E credo gli manchi qualcosa. Vabbè ovviamente dobbiamo tenere d'occhio anche l'acqua. Quindi il pozzo non rifornisce questa zona. Quindi lo mettiamo qua. Il pozzo. E qua ci piazziamo altre case che sono richieste. Tra l'altro potremmo iniziare adesso anche a piazzare delle case medie. Perché potrebbero arrivare degli abitanti magari di fascia un po' più alta. Infatti qua vedete zona 2. C'è proprio il numerino. Pensiamo ancora... Qua andiamo di case povere comunque perché compriamo risorse. Vedete qua non... Risorse attuali ne abbiamo la qualità in media. Dovrei un attimino andare a vedere dettaglio sulla popolazione. La salute generale, l'istruzione generale che comunque è in aumento. L'economia, le risorse. Soprattutto vedere la... Ok, la produzione e il consumo. Praticamente la produzione... Delle verdure, delle borista, frutteto. Eh sì, bisogna tenerli d'occhio. Cioè c'è una bella gestionalità delle cose. Infatti qua possiamo fare pelli, latte, lana vergine. Cioè pecore, maiali. Cioè si può andare a fare diverse cose. Soprattutto adesso che abbiamo sbloccato anche il sarto. Che è... Abbiamo sbloccato, dire la verità, tutti gli edifici di produzione. Quindi la cantina, il taglialegna. Per la produzione di legna da ardere. Che è molto utile perché... Adesso io la piazzo qui. Perché poi arriverà l'inverno. E quindi l'inverno porterà la neve e la necessità di avere del legname. Vedete qua produciamo carburante. Abbiamo già tra i dipendenti. Dovremmo tenere d'occhio anche la gente. Poveri, medi. Lavoratori. 30, 30, sì. Posti di lavoro totali 5. Disponibili 0. Quindi... Qua c'è un problema perché dice... Cosa dice? Manutenzione, no? Di... No, scusate, ma al momento devo disabilitare sta scuola. Perché mi costa veramente troppo. E soprattutto non viene nessuno. Comunque gli abitanti stanno aumentando. Allora, mi piacerebbe sapere anche che cosa ne pensate voi. Perché è un gioco davvero interessante. Dipende tanto, tanto come lo porteranno avanti. La cosa che noto, carina, che sto guardando adesso, è che il gioco parebbe funzionare anche con il pad. Lo sto muovendo col pad adesso. Quindi, carino. Se avete uno Steam... Il pad di Steam, anche in un futuro, magari con la Steam Deck, magari arriverà anche su console. Però ho provato col pad in questo momento ed è ottimizzato anche per quello. Giusto così per darvi una info in più. Perché ho qua il pad in carica e ho deciso di provare così al volo in chiusura. La mappa non è grandissima. Qua vabbè, possiamo salvare il gioco. Possiamo tornare al menu principale. Iniziando il nuovo gioco, ci abbiamo scelto la difficoltà, l'inizio di stagione, quindi l'inverno. La mappa la possiamo scegliere media grande. Io la scelgo grande. Inizio il gioco così. La chiamo inverno perché voglio vedere com'è l'inverno. Tra l'altro non c'è ancora neve, ma la cosa dovrebbe cambiare a breve, credo. Bisogna piazzare il molo, insomma, e le temperature saranno senz'altro diverse. Comunque, gioco in early access, viene aggiornato. Fatemi sapere cosa ne pensate. 16,79 euro, il suo prezzo pieno. Poi magari, netto di sconti, lo si pagherà meno. Non è da buttare, nel senso che può essere interessante per gli appassionati del genere. Adesso si sta incupendo un po' l'ambiente. Infatti sta piovendo. Adesso inizierà magari anche a nevicare. Siamo a dicembre. L'inizio di dicembre è veramente tosto perché comunque non avremo magari granché da coltivare. Magari punteremo più sull'allevamento. Però tagliare la legna è importante. E all'inizio non lo possiamo fare. Perché a livello 2, vabbè, ci si arriva presto a livello 2, però tanto si sta incupendo sempre di più l'ambiente. Fatemi sapere cosa ne pensate, ragazzi. E alla prossima. Ciao, ciao.